Buonasera a tutti, io direi di iniziare, mi hanno aspettato dieci minuti, adesso è arrivata comunicazione, anche il dottor Manari non sa se si collegherà, per cui io direi di iniziare, l'ingegner Tacchini quando si arriverà lo aggiungeremo ai presenti. Prego segretario l'appello. Peretti Enrico, Costa Daniele, Vaccini Franco, Borghesi Vano, Dolci Cristiano, Monelli Filippo, Giovinelli Luca, Orlandi Lara, Tacchini Alessandro, Bargiacchi Paolo, Cecchi Luca, Pedrini Emiliano, Manari Antonio, quindi assente e giustificato. Allora, delle municipalità, io vedo solo Natalini. Natalini Maura. Allora, ora di inizio, 2011. Facciamo la nomina? Sì, scutatore. Nomina degli scutatori, Borghesi, Dolci, Pedrini. Ok, procediamo col primo punto d'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Partiamo sempre con il numero dei residenti che alla data del 31 10 2023 è di 3.922. Purtroppo registriamo 8, 7 decessi. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decessi. E però abbiamo anche l'arrivo nelle nostre comunità di 4 nuovi nati. Per cui come sempre ci uniamo al dolore delle famiglie dei defunti. Soprattutto ricordiamo la morte del giovane Camagnoni Paolo che in giovane età prematuramente è scomparso e chiaramente diamo il benvenuti a tutti coloro che sono nuovi del nostro territorio, tra i quali c'è anche il nipote del consigliere Bonelli. Per cui benvenuti a tutti i nostri nuovi residenti. La prima comunicazione dopo i numeri sono quelli del ringraziamento che voglio porgere al consigliere Paolo Bargiacchi per la rettifica che ci ha inviato in data 7-10-2023 a riguardo dei verbali del verbale che citava della signora Pallai che ha avuto praticamente ha scambiato un'identità per cui... Se il consigliere Bargiacchi vuol leggerlo... Sì, se lo vuole leggere direttamente, ok, se lo vuole leggere direttamente Bargiacchi comunque ringrazio per queste precisazioni che ha puntualmente fatto il consigliere Bargiacchi di questa svista. Cerco di andare in ordine cronologico di tutti i vari eventi che sono successi in questo periodo. Il 5 ottobre è iniziato ed è intapreso il percorso Sentieri Sostenibile, strade accessibili a tutti in montagna e in collina in collaborazione con il Parco Nazionale e realizzato dalla Cooperativa Osterro dei Balocchi e iniziata questa importante iniziativa sul nostro territorio. Il 7-10 in collaborazione con la Croce Verde Altapennino per il mese di ottobre è iniziata l'iniziativa Azione Solidaria che è la consegna di pacchi solidari a famiglie in difficoltà. È un progetto che questo è avallato e sostenuto dall'amministrazione, avrà una validità di due anni. Insieme a questi sono riniziate tutte le attività collegate alle cooperative di comunità per quanto riguarda il settore sociale e ringrazio di queste iniziative l'assessore Lara Orlandi che se ne è occupato. Per il weekend del 7-8 di ottobre si è svolto in Ceretto Raghi il campionato mondiale del fungo, una ripartenza dopo anni di stop dovuti soprattutto al Covid, una ripartenza difficile che ha visto gli organizzatori rimodulare le scelte del regolamento andando a valorizzare il bosco, rivolto in una custodia del bosco. Nonostante queste opportune rimodulazioni, la manifestazione si è svolta in maniera ottimale con l'apprezzamento di tutti i concorrenti che hanno partecipato e dei turisti a corsi. Per questo ringrazio la cooperativa Briganti del Cerreto, il Parco Nazionale e coloro che hanno appoggiato questa iniziativa. Il 12-10 presso la sede della regione Emilia Romagna si è svolto il premio Agenda Digitale dove il comune diventasse stato premiato come comune e amministrazione attiva, attenta alle esigenze dei cittadini, con i nostri sette sportelli per un riconoscimento dello speed, con un rapporto elevato di rispetto a mille maggiorenni residenti in tutta la provincia reggiana, per cui una percentuale di uno sportello 1,97. Registrando miglioramenti nei servizi digitali, ritirando il premio, l'ingegner Tacchini Alessandro, lo ringrazio e ringrazio anche l'impegno profuso dall'ingegnere Filippo Monelli e l'Ufficio d'Europa con l'ingegnere Poletti. Il 15-10 registro le pubbliche scuse della redazione Redacon. Con la presente comunicazione la redazione Redacon porta formalmente scusa al sindaco Enrico Ferretti e ai componenti di tutta la giunta comunale, a seguito della pubblicazione di commenti relativi articoli del 3 e del 12 luglio 2023, dal contenuto lesivo alla dignità dei comportamenti dell'operato dell'amministrazione comunale. Certi che tali fatti non verranno più a ripetersi, Redacon auspica il mantenimento di un rapporto di collaborazione con l'amministrazione locale e il perseguimento del Comune e l'interesse da tutta la valorizzazione del nostro territorio. Il 23 ottobre la stazione di Cerretto Laghi tramite la gestione della Turismo Appennino comunica la volontà di organizzare eventi per in memoria e in ricordo del settantesimo anno dalla nascita della stazione di Cerretto Laghi. Con questi eventi partendo dalla fiera di Schipass accolto l'invito di un supporto vero per queste importanti iniziative che convolgeranno Unione, Provincia e l'amministrazione comunale per tutto l'inverno 2023-2024. Il 2310 è iniziato il cantiere presso l'ex municipio di Rigonchio per la realizzazione degli spazi multifunzionali del bando cultura PNRR, intervento numero 7 per appunto spazi multifunzionali. Il 2910 si è svolta a Cecciola un'iniziativa metata in festa, purtroppo una manifestazione penalizzata per il brutto tempo. Il 27, il 28 e il 29 si è svolto a Schipass con la partecipazione delle stazioni del comune di vari operatori turistici non solo del settore neve ma anche dell'outdoor, una presenza vera ed effettiva del comune di Ventasso che ha visto la presenza anche del presidente della provincia Zanni. Il 2910 a Cervarezza si è svolta la gara di enduro del campionato regionale Emilia-Romagna, gara che era stata rinviata causa maltempo. Organizzata dal motoclub regnano e la collaborazione della Proloco ha permesso questo svolgimento di una manifestazione che ha portato sul territorio tanti appassionati, oltre 150 concorrenti. Sottolineo l'impegno profuso dai consiglieri borghesi e dolci che ringrazio. Sempre a fine mese purtroppo sul nostro territorio è stato colpito da eventi meteorologici gravosi. Proprio nelle giornate di fine di ottobre sono state emesse diverse allerte rosse da parte della regione Emilia-Romagna e della protezione civile. Da subito ci siamo attivati, abbiamo monitorato tutte le fasi di questo prolungate giornate impegnative e stressanti. Alla fine il nostro territorio ha subito danni ingenti, ma come sempre devo considerarmi, dobbiamo considerarci ancora dei miracolati. Pensando che a pochi chilometri da noi, sul versanto toscano, purtroppo abbiamo assistito a allagamenti e purtroppo tanti troppi morti. Circa le stime del danno del comune che sono stati presentati il 17 di novembre tramite delle schede, i danni si aggirano intorno all'ordine di un milione di euro. Già sono stati spesi dal bilancio comunale oltre 50 mila euro. in data 2.11.2023 è stato risposto alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per Emilia-Romagna, su diversi requisiti che questa ci ha posto. Queste risposte, come richiesto richiesto da questo ente, appunto, sono state prontamente inoltrate a tutti i consiglieri comunali. Il 18-11 sono partiti i lavori sul Teatro Cinema di Ligonchio, con l'allestimento proprio dell'area di cantiere. Lo stabile, che sino a due anni fa era censito come piccolo laboratorio di fallegnameria, grazie a scelte coraggiose, come quella fatta dalla nostra amministrazione, fanno sì che il nostro territorio possa ancora sognare e sperare in qualche cosa di positivo. Il 22-11 è iniziato il posizionamento delle prime otto colonnine per la ricarica delle auto elettriche da parte della BC Change e anche qui voglio ringraziare le persone che se ne sono occupate, in primis l'ingegner Monelli, Luca Iovinelli, consigliere e l'Ufficio Europa. Inoltre, voglio ricordare che proprio ieri in questa sede è stato svolto un incontro per la prima volta della destinazione turistica Emilia. Un incontro che ha visto la partecipazione di tanti, buonasera Ingegner Tacchini, di tanti operatori del settore turistico. Ringrazio veramente per la scelta, come ho detto ieri, che è ricaduta sulla sede del Comune del Ventasso, vista la vocazione turistica di questo territorio. Le ultime due segnalazioni sono quelle delle dimissioni da parte di un dipendente dell'Ufficio Tecnico, datate 15-11-2023 e ringrazio per l'impegno, per quello che finora ha fatto per questo ente e auguro al dipendente buona fortuna e buona vita. Sempre si tratta di dimissioni avvenuti in data 27-11 da parte di un dipendente dell'Ufficio del Sociale. Anche a questa auguro buona fortuna, buona vita dove andrà a lavorare. Ultima segnalazione che credo che sia stata inoltrata e voglio ringraziare anche il consigliere Pedrini per la disponibilità. A seguito del sopralluogo, a seguito appunto delle gravi folate di vento che sono state presenti sul nostro territorio per diversi periodi, abbiamo fatto fare un'analisi al Consorzio Fittosanitario Provinciale di Reggio Emilia per quanto riguarda alcune importanti piante che sono nella frazione di Succiso e nella frazione di Castagneto. Abbiamo inoltrato al consigliere Pedrini anche la risposta prima di intervenire perché chiaramente prima di intervenire abbiamo chiesto a chi è competente del settore un parere. Ringrazio oltre il consigliere Pedrini anche al vice sindaco Daniele Costa per l'impegno. Non ho altro come comunicazioni. prego consigliere Bargiacchi. Ma io prendo atto del lunghissimo elenco di informazioni a cose avvenute. Ecco pregherei se fosse possibile insomma di inserire in queste anche lo stato dell'arte relativamente alla guardia medica a meno che non ci siano altri enti che devono essere informati prima del Consiglio Comunale. Ringrazio del suggerimento è proprio di questa sera. Non l'avevo tra gli appunti per cui ringrazio del suggerimento. Ho avuto un incontro come concordato con Asle e gli altri sindaci della montagna in sede di giunta in Unione Montana appunto concluso intorno alle 18 dove praticamente si è giunti a un individuo di una giornata dove l'USL verrà sul territorio. Stiamo scegliendo qual è la sede più adatta per questo primo incontro e stiamo scegliendo o questa sede comunale o quella di Busana per fare un incontro alla cittadinanza per portare a conoscenza della cittadinanza di eventuali proposte che sono al vaglio al vaglio dell'USL. Per cui questo è quello che è emerso dall'incontro di questa sera per cui l'impegno da parte di USL anche se in ritardo come è stato segnalato anche nei giornali che era molto più opportuno farlo prima questo incontro si sono resi disponibili per cui io prendo atto della disponibilità dell'USL per insieme percorrere un percorso diciamo costruttivo per arrivare a qualche cosa che veramente deve portare e o meglio deve riportare questo servizio di base necessario sul nostro territorio. Per cui questo è quanto è emerso questa sera diciamo mezz'ora fa. Prego Gargiacchi. No no registro con dispiacere che il Consiglio non deve essere coinvolto. Grazie. Non è così. Ho ringraziato e appunto non non l'avevo appuntato e non è non si vuole nascondere niente a nessuno. Anzi come ho già detto nel precedente Consiglio Comunale credo che sia una di quelle cose che tutti quanti dovremmo remare in un'unica direzione e non e non secondo me sfruttare queste cose per fare una mera campagna diciamo politica che non non la vedo perché veramente sono servizi essenziali che riguardano tutta la la popolazione e credo che la volontà ci sia da parte di tutti di ottenere dei risultati per cui questo è quanto. Grazie Gargiacchi. E allora ci dica su quale proposte state lavorando per favore. Allora queste proposte queste proposte quando saranno proposte concrete ok quando saranno proposte concrete questa sera abbiamo tenuto la data concreta noi avremo altri incontri con ASLE quando saranno proposte concrete effettive le porterò a conoscenza di tutti minoranza maggioranza cittadinanza ribadisco cose concrete non cose che non sono concrete perché credo che bisogna arrivare anche con proposte concrete. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passerei al secondo punto all'ordine del giorno seconda modifica al programma triennale delle opere pubbliche duemilaventitré duemilaventicinque ed elenco annuale duemilaventitré approvato con deliberazione numero ventiquattro del duemila e ventitré. Allora cerco di semplificare praticamente non è stato aggiunto null'altro che quello che riguarda il palazzetto del ghiaccio del Cerretolaghi di Cerretolaghi i fondi Funt comunque leggerò nei dettagli quello che è la proposta che viene fuori chiaramente dalla responsabile dalla responsabile premesso che con la deliberazione di consiglio comunale cinquantuno del duemilaventidue è stato approvato un documento unico di programmazione semplificato d'UPS per gli anni duemilaventitré duemilaventicinque con deliberazione del consiglio comunale sedici due del duemilaventitré è stato approvato il rendiconto di gestione per l'anno duemilaventidue la giunta comunale con deliberazione quarantasei duemilaventitré come rettificata da deliberazione numero sessantacinque duemilaventitré per mere errore materiale immediatamente esecutiva ai sensi di leggi approvata una nota di aggiornamento al duemilaventitré duemilaventitré duemilaventicinque da sottoporre l'approvazione del consiglio comunale nella versione aggiornata e coerente con la proposta di bilancio di previsione duemilaventitré duemilaventitré duemilaventicinque con deliberazione del consiglio comunale venticinque del duemilaventitré immediatamente esecutiva ai sensi della legge ad oggetto approvazione del bilancio di previsione duemilaventitré duemilaventicinque relativi allegati approvazione nota integrativa al bilancio e nota di aggiornamento al duemilaventitré 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 duemilaventicinque è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio duemilaventitré duemilaventicinque con propria deliberazione numero venticinque del duemilaventitré è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria duemilaventitré duemilaventitré duemilaventicinque con deliberazione di giunta comunale settantasette duemilaventitré è stato approvato il piano esecutivo di gestione duemilaventitré duemilaventitré duemilaventicinque relativamente alle dotazioni finanziarie Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 24 del 2023 ad oggetto approvazione del programma triennale opere pubbliche 23-25 dell'Encarno dei Lavori anno 2023 e programma biennale 2023-2024 degli acquisti di beni servizi e sensi dell'articolo 21,3 del DLGS 50 del 2016 La deliberazione del Consiglio Comunale numero 36-2023 ad oggetto prima modifica del piano triennale opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 24-2023 Dato atto che occorre procedere alla modifica del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023-2025 ed elenco annuale 2023 in ottenanza alla disposizione dell'articolo 37 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 numero 36 Dato atto che indicazione dell'amministrazione comunale stata svolta attività preliminare dell'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici con l'attivo elenco annuale sulla base del DM 14-16-01-2018 richiamato l'allegato del codice 1.5 che rega la disciplina di oggetto degli schemi tipo agli ordini di operità degli interventi e della specificazione delle fonti di finanziamento dall'allegato riprende il contenuto del previgente DM 14-2018 senza variazione di particolarmente rilevanti Visto l'articolo 5,9 del suddetto decreto ministeriale in base al quale le modifiche del programma dei lavori pubblici sono possibili nel corso dell'anno tre approvazioni dell'ergano compartente qualora le modifiche riguardano la cancellazione di uno o più lavori già previsti dall'elenco annuale B. l'aggiunta di uno o più lavori di conseguenza atti amministrativi adottati a livello statale e regionale C. l'aggiunta di uno o più lavori sopra la disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibile al momento della prima approvazione del programma i vi compreso ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta ed economie di l'anticipazione alla realizzazione nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in normalità successive e modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale per la quale rendono necessarie ulteriori risorse Visto il decreto del ministro del turismo datato 55-2023 protocollo 00089-12-23 recante Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale atto di programmazione anno 2023 che meglio individua le sue finalità ed obiettivo tipologie di interventi ammissibili e beneficiari procedure di riparto, monitoraggio e rinicotazione del fondo in esame richiamata la giunta regionale numero 1657 del 2010-2023 candidatura infrastrutturale pubblici di finanziamento del Fondo unico nazionale del sul turismo FUNTE parte capitale anno 2023 articolo 1,368 della legge 30 dicembre 2021 numero 284 DM numero 89-12 del 5-5-2023 promagrazione interventi pubblici legge regionale 17-2002 con la quale la regione Emilia Romagna ha individuato gli interventi di cui il prospetto ha allegato la medesima deliberazione alle schede specifiche nell'allegato B medesima deliberazione quale interventi candidati al FUNTE parte capitale 2023 dato atto nell'elenco degli interventi candidati al FUNTE conto capitale anno di programmazione 2023 è presente un intervento denominato completamento dei lavori di adeguamento normativo ai fini della riapertura del palaghiaccio nella stazione invernale di Ceretto Larghi identificato con il CUP H32-H2-30-003-800-07 per un importo complessivo di un milione di euro considerata che è stata sottoscritta dalla regione Emilia Romagna e dal comune di Ventasso Convenzione al fine di assicurare l'attuazione degli interventi e del cofinanziamento degli stessi che la sottoscrizione delle presente convenzioni costituisce atto giuridicamente vincolante nell'attuazione dei predetti interventi considerata quindi l'esigenza di modificare il programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e il relativo annuale 2023 nel seguente modo inserendo nell'attualità 2023 l'intervento ad oggetto FUNTE anno 2023 completamento dei lavori di adeguamento normativo ai fini della riapertura del palaghiaccio nella stazione invernale di Ceretolaghi CUP H32 H23 00 03 80 00 07 dell'importo di euro un milione rilevato che il funzionario referente responsabile del programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori individuati dai responsabili del settore 4 lavori pubblici patrimonio e protezione civile l'ingegnere Laura Felici visti che lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023 le dati secondo gli schemi del tipo assoproccitato costituiscono le schede A quadro economico delle risorse necessarie alla realizzazione del programma B elenco delle opere incompiute C elenco degli immuovili disponibili D degli interventi del programma e interventi rincompresi nell'elenco annuale F interventi presenti presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale non riproposti o non avviati per disposizione del referente responsabile e del programma ed allegate al presente atto come parte integrante e sostanziale ritenuto di dover procedere per quanto sopravvivenzato all'approvazione dell'approvazione del programma triennale dell'opera pubblica duemilaventitré duemilaventicinque ed annuale duemilaventitré precedentemente approvato con deliberazione numero ventiquattro del duemilaventitré visto l'articolo quarantadue del DLGS duicentosessanta sette duemila il quale prevede il consiglio comunale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo approva tra gli atti fondamentali del comune il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici visti il DLGS duicentosessantasette duemila il DGLS centodiciotto duemila il vigente statuto comunale il vigente regolamento di contabilità il vigente regolamento comunale del funzionamento del consiglio visti altresì il DLGS trentasei duemilaventitré il DLGS duicentosessantasette del diciotto otto duemila il DM del MIT numero quattordici del duemila di diciotto acquisito il parere di regolarità tecnica spesso da responsabile del settore quattro competente ai sensi dell'articolo dell'articolo quarantanove del dell'uno del primo ok DLGS numero duicentosessantasette duecento allegato al presente atto per farne parte integrale sostanziale acquisito il parere di regolarità contabile spesso da responsabile del settore finanziare essensi dell'articolo quarantanove D1GS numero duecentosessantasette duemila in quanto presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica finanziare o sul patrimonio dell'ente quindi anche maggiore o minore entrate spese dell'ente si propone la proposta di delibere di approvare le premesse che fanno parte integrante sostanziale del presente di approvare la prima modifica del programma triennale delle opere pubbliche 2023 2025 ed elenco annuale 2023 approvato con deliberazione del consiglio comunale numero 24 per le motivazioni indicate in premessa nel seguente modo inserimento nell'annualità 23 intervento oggetto FUN anno 2023 completamento dei lavori di adeguamento normativo ai fini della riapertura del palaghiaccio della stazione invernale di Ceretto Laghi per l'importo di un milione di euro di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023 2025 e l'elenco annuale 2023 integrati con la modifica sopra richiamata costituito dalle parti allegate scheda A B C D E F allegate che fanno parte integrante sostanziale della presente deliberazione di dare atto che si è individuato nel responsabile del settore 4 lavori pubblici patrimonio e protezione civile ingegnere Laura Felici il funzionario referente responsabile del programma triennale e dell'elenco dei lavori annuali di dare atto che è responsabile del presente procedimento l'ingegnere Laura Felici di pubblicare ai sensi dell'articolo 37,4 del DLGS 36 2023 il programma triennale e l'elenco annuale come sopra provato sul profilo di questo ente nella sezione amministrazione trasparente secondo le modalità determinate dall'ANAC questo è quanto prego signor giacchi prego consigliere ma innanzitutto un problema di metodo palese e mi meraviglio che sia sfuggito pur leggendo per intero l'atto il cui oggetto è seconda modifica al programma triennale delle opere pubbliche e il deliberato è approviamo la prima modifica certo proviamo la prima modifica copia incolla grande come la casa cioè insomma io non lo so approvato con deliberazioni la numero 24 singolare tutto un casotto di questo genere secondo me si farebbe molto meglio a rileggere un po' prima e forse meglio farebbero anche gli uffici i proponenti a rileggere che io presumo che sia che sia richiesto anche perché parliamo di un milione insomma non è che parliamo di due lire di due euro nel merito la notizia in sé che parte dall'inserimento del palaghiaccio nel fondo unico nazionale del turismo è certamente una notizia positiva inserimento per 500 mila euro a cui 200 li aggiunge la regione 300 li mette il comune diventasse 300 mila devo dire però che sicuramente ci arriviamo nel modo peggiore ci arriviamo dopo cinque anni di chiusura in cui si sono durante i quali si sono fatti e rifatti dei lavori durante i quali questi cinque anni e due mesi abbondanti veniva assicurato ogni sei mesi che il prossimo semestre c'era l'apertura e ci arriviamo con un ulteriore impegno di un milione di euro senza sapere con esattezza cosa si fa cosa si deve fare se ci arriviamo in fondo è vero che per convenzione dovremmo arrivarci in fondo per convenzione con la regione dovremmo arrivarci in fondo entro il 31-12 2025 però io a mano sul fuoco visti i precedenti non ce la metto vedo che registro con dispiacere insomma questo comune che offre soldi a tutti offre soldi a tutti anche a chi non li chiede o al limite non ne ha non è quello che vuole impariamo che si sono offerti soldi alla banca alla BPM che non credo proprio abbia bisogno dei nostri soldi non credo che abbia bisogno dei nostri soldi si sono offerti soldi quanto? questo non lo so comunque è dichiarato è dichiarato è dichiarato è dichiarato è dichiarato dove? è dichiarato dal sindaco dal sindaco a diventarsi ma dove? si è dichiarato è dichiarato sui giornali questo io non lo so figurati se lo so sono offerti soldi alla chiesa 20 e altri 20 anche questo è dichiarato su una delibera della municipalità di Ligonchio ad esempio 20 e altri 20 no 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 nessuna delibera adesso te la documento e te la porto prima della proceda Bargiacchi grazie eh? proceda no non ti preoccupare che te le documento tutte perché questa questa è una delibera è questa qui della municipalità di Ligonchio no questa è un'altra boccia no no c'è una delibera della municipalità di Ligonchio l'ultima seduta ed è pubblicata all'albo quindi la puoi vedere te la puoi leggere tranquillamente e si parla di 20 più 20 va bene? 20 più 20 mila euro e quando ci chiedevano un aiuto per trovare per trovare un un altro gestore non ci chiedevano soldi particolarmente cioè il risultato è che si chiude tutto qui si chiude un po' tutto si sta chiudendo tutto grazie a scelte molto lungimiranti e si chiede e si chiede e si chiude anche con il voto favorevole col voto favorevole del sindaco di Ventasso questo mi piange il cuore davvero infatti è una palla perché da si legga la delibera numero numero 4 del 22 giugno l'ho letta benissimo si legga la delibera l'ho letta benissimo numero 4 del 22 giugno dove lei e le confermerà lei esprime un voto favorevole favorevole a che si riduca di un punto della guardia medica la montagna chiaro? che dovrà essere scelto fra Villa e Busana dovrà essere scelto in sede di comitato di distretto comitato di distretto se non lo sa glielo glielo spiego ne fa parte lei con gli altri sindaci e il direttore del distretto e ha il potere di convocarlo il presidente dell'Unione Montana cioè fa parte la giunta dell'Unione Montana e quindi non vi siete neanche preoccupati di venire a dire al Consiglio Comunale sta succedendo questo no no voi ci dite solo le cose che vanno ecco e l'ho registrato poco fa non ci volete dire se state lavorando su sei mesi di sperimentazione in un punto e sei mesi in un altro non ci volete dire queste cose non ce la volete venire a dire perché probabilmente non riuscite a rimettere a rimettere il punto che voi avete approvato che venisse tolto che voi avete approvato che venisse tolto ecco qui si trovano in questa maniera soldi 300.000 euro così non si non si sono voluti trovare i soldi per gli operatori del comune per tenere bassa l'Atari per tenere l'Atari al livello precedente e sapete benissimo e sapete benissimo che 180.000 euro i cittadini li pagano al comune non li pagano all'Iren con l'Atari 180.000 euro vengono al comune lo sapete benissimo ecco e adesso ci dite un altro milione giustamente ci vengono 700.500 dallo Stato e 200 dalla Regione e 300 li mettiamo noi è davvero io credo che insomma sia una buona notizia ma non sappiamo per far che cosa perché il Consiglio Comunale non viene coinvolto in queste cose non viene informato e non c'è continua così scorrimento di informazioni nei riguardi del Consiglio e si nasconde così in un atto abboracciato avanti e indietro per cui guardate a me davvero dispiace enormemente che di fronte ad un atto di questo genere non ci sia stato quel giusto coinvolgimento di chi deve avere e può avere anche altre idee ma che certamente tiene al bene di questo comune per cui ci asterremo prego Assessore Vaccini tanto chiedevo se possiamo ancora darci del tu o se devo rivolgermi a Bargiacchi con lei comunque al di là di questa piccola premessa mi dispiace fortemente che Bargiacchi dica delle cose infondate e non vere e allora quando lui parla che questa amministrazione avrebbe promesso alla parrocchia di Ligonchio 20.000 euro più 20.000 euro non alla parrocchia di Ligonchio lei prima ha parlato della chiesa della parrocchia ma non alla parrocchia di Ligonchio e allora di che parrocchia ha parlato non te l'ho detto ha detto la municipalità di Ligonchio esatto la delibera della municipalità di Ligonchio me la dia te la leggi me la dia se c'è l'altro però mi raccomando restituissimela sì perché allora questo qui è un falso mi dico dove c'è scritto che abbiamo dato 20.000 euro e che gliene abbiamo promessi altri 20.000 alla casa di carità ah la mette il sindaco sì ma alla casa alla casa della carità glielo abbiamo dati 20.000 euro beh e dov'è stai cherzando ma sì ma dov'è dov'è il fatto grave che abbiamo dato 20.000 euro alla casa della carità no non ho detto questo l'abbiamo detto non ho detto non ho detto ha detto che promettete soldi a tutti ma come promessi soldi a tutti glielo abbiamo dati finisca il suo intervento grazie i soldi glielo abbiamo dati non glielo abbiamo promessi noi alla casa di carità di Busana per il mantenimento di quel servizio che è essenziale per il nostro territorio e per il comune tutto diventasso abbiamo contribuito con un fondo di 20.000 euro così come abbiamo contribuito al mantenimento della Croce Verde e se era un problema se era un problema economico eravamo disponibili a dare il nostro contributo anche in avvenire questo è chiaro non che la municipalità di Ligonpio abbia detto questa cosa no in sede di municipalità di Ligonpio è stato detto questo è stato detto che il comune diventasse guardati di dirlo a Busana no l'abbiamo detto anche in questa sede qui l'abbiamo detto in consiglio comunale l'abbiamo detto in consiglio comunale finisca finisca consiglio pacif voglio anche finire perché queste qui veramente sono affermazioni gravi per quello che riguarda il BPM dove dice che noi avremmo promesso soldi a destra e manca alla Banca Popolare di Milano questa è una fandonia bella e buona noi con la Banca Popolare di Milano abbiamo avuto degli incontri ad agosto dove la Banca Popolare di Milano si era impegnata a seguire le indicazioni date dalla precedente amministrazione che metteva a disposizione i locali sottostanti il comune di Ligonchio dove sarebbe venuto installato un bancomat io ero presente all'incontro con la referente di zona di Modena e con un loro tecnico sono venuti su hanno chiesto le planimetrie che noi abbiamo dato loro e abbiamo concordato che come aveva promesso la precedente impegni presi dalla precedente amministrazione avremmo dato quel locale lì e questo era stato l'impegno dopodiché non avendo avuto da loro risposte li abbiamo chiamati e ci hanno messo in contatto con il capo area di Milano che ha preso l'impegno di mantenere questa loro intenzione dopodiché senza dirci niente senza dirci niente ripeto sono andati su una mattina e ad anno chiuso il banco ma l'impegno di questa amministrazione c'è ed è forte perché anche pensiamo di poter riuscire a tenere sul territorio quel servizio lì quindi dire delle cose che non sono vere che noi abbiamo promesso dei soldi alla banca ma 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 come si fa a inventare queste cose ma come si fa a inventare queste cose noi i soldi che sono soldi di tutti anche della minoranza cerchiamo di spenderli per un interesse comune di tutti quindi bisognerebbe stare calmini e parlare a ragion veduta perché noi in questo consiglio comunale abbiamo detto più di una volta che abbiamo dato perché era un interesse di tutti fino a circa 20.000 euro questo in due annualità è due annualità quindi cerchiamo bene di guardare anche lì le cose e che saremmo stati disponibili a investire ancora per garantire quel servizio lì quindi mi dispiace per quello che riguarda il servizio di guardia medica veramente trovo scandaloso ad operare questa cosa e siccome Bargiacchi sa leggere molto bene le delibere non c'è scritto questo c'è scritto che si sarebbe deciso in un ulteriore incontro alla presenza di tutti quello che sarebbe stato una ridefinizione di quello che è l'aspetto sanitario della montagna questo è quanto grazie assessore Baccini prego Barlieri allora a proposito delle affermazioni dei 300.000 euro della compartecipazione per la realizzazione della struttura del palaghiaccio di cui parleremo anche dopo ricordo al consigliere Bargiacchi che appunto sono cinque anni di cui se ne parla e noi siamo qui da due dove prima era seduto sempre nella minoranza e in ogni caso i tempi che ci sono stati per poter decidere su questa cosa ci sono stati imposti dalla regione e purtroppo sono stati veramente molto stretti la proposta della convenzione con quello che abbiamo dovuto decidere nel giro di tre o quattro giorni ci ha portato a fare questa cosa ad avere comunque ragionevole certezza di avere già i fondi di bilancio tanto più che verrà dimostrato dopo in ogni caso in quello che è il discorso dell'ultima variazione di bilancio e altrimenti purtroppo saremo stati forse ancora qui e speriamo a questo punto di riuscire a mandare avanti quelle che sono le opere con l'ennesima incompiuta grazie assessore Barbieri ci sono altri interventi prego consigliere Pedrini sì però le risposte vanno date sulle asservazioni che vengono fatte non su altre cose perché ha parlato anche dei 300 mila euro ha parlato dei 300 mila euro ma non ha detto quello che lei ha detto che ci sono stati tempi lunghi per la stipula della convenzione ci sono stati tempi lunghi dei 5 anni in ogni caso noi chiediamo e noi siamo nei due sì però prego consigliere Pedrini il fatto di non essere interrotti vale anche per noi assolutamente comunque detto ciò io ho chiesto circa un mese fa all'ufficio tecnico non so se l'avevo mandato anche al sindaco se non ricordo una richiesta alla segretaria non è passato un mese quindi i tempi ci sono ancora io mi sono informato personalmente ti verrà no no ma lo so non è scaduto il tempo quindi non sto dicendo questo per capire perché per per dare un voto favorevole a questo cioè secondo me è importante capire visto che si tratta di un milione di euro cosa in questi 5 anni è stato fatto i lavori che sono stati svolti perché un milione di euro è una cifra importante e so che il comune in 5 anni di soldi a pallaghiaccio ne ha spesi quindi il mio voto di astensione è su questa linea qua cioè mi interessa essere capire cosa è stato speso fino adesso e quelli che saranno gli interventi che si andranno a fare con questo milione di euro grazie grazie consiglier Pedrini ci sono altri interventi prego consiglier Bargiacchi leggo quello che è scritto fra virgolette è cos'è è Redacon Ferrette aggiunge che aperte le virgolette il sindaco il comune di Ventasso ha avuto diversi incontri con BPM come tutti saprete lo stabile su cui era installato eccetera è di proprietà privata nonché in vendita e non sappiamo se vi siano trattativi in merito le proposte fatte dall'attuale amministrazione a BPM sono quelle relative alla possibilità di posizionare il bancomat all'interno del municipio di Rigonchio facendosi carico delle spese di mantenimento del servizio chiaro? mantenimento io riferisco sempre cose generalmente documentate grazie benissimo nella nella risposta che lei legge di Redacon quelli che hanno si sono hanno chiesto scusa e si sono scusati per alcune affermazioni che loro scrivono in questo caso il mantenimento di servizio non è nient'altro che l'installazione di telecamere collegate no sì ma non dice quello ma l'intervista l'ho fatta io o l'ha fatta lei l'ho fatta l'intervista l'ha fatta lei o l'ho fatta io il mantenimento del servizio è la possibilità di agganciarsi io smentisco cosa? una cosa su Redacon va bene ma cosa smentisco? lì c'è scritto il mantenimento il mantenimento del servizio sono la correnza dico va bene va bene non è così io non ho dichiarato io non ho dichiarato quello no tra virgolette il giornalista scrive così per comunque è una roba incredibile praticamente la prossima volta porterò insieme il consigliere Bargiacchi quando mi intervisteranno così potrà dire anche lui la ringrazio comunque di questo suggerimento e vedo che frequenta molto spesso Redacon per cui capisco anche determinate cose prego se non ci sono altri interventi ci sono altri interventi io passerei alla votazione prego segretario allora direi a questo punto di fare due correzioni alla delibera quella che diceva il consigliere Bargiacchi visto che dice di approvare la prima mettiamo la seconda dopo il delibera poi c'è un altro errorino un po' sopra dove c'è acquisito il parere di regolarità tecnica invece di farne c'è scritto fame è un errore di digitazione a questo punto direi di correggerlo esatto corregiamo facciamo queste tre correzioni e la proviamo diciamo corretta dov'è consigliere Bargiacchi perché io non l'ho trovato scusi ah deliberazioni la I invece della E giusto? sì bene allora mettiamo anche questa correzione perfetto benissimo passiamo alla votazione Ferretti Enrico favorevole Costa Daniele favorevole Baccini Franco favorevole Borghesi Ivano favorevole Dolci Cristiano favorevole Monelli Filippo favorevole Jovinelli Luca favorevole Orlandi Lara favorevole Tacchini Alessandro favorevole Bargiacchi Paolo astenuto Cecchi Luca Pedrini Emiliano votiamo l'immediata eseguibilità Ferretti Enrico favorevole Costa Daniele favorevole Baccini Franco favorevole Borghesi Ivano favorevole Dolci Cristiano favorevole Monelli Filippo favorevole Jovinelli Luca Giovinelli Luca Orlandi Lara favorevole Tacchini Alessandro favorevole Bargiacchi Paolo sì Cecchi Luca pedrini Emiliano volevo solo scusarmi perché ho alzato il tono della voce ed è sempre una cosa non bella specialmente in un consiglio comunale quindi chiedo scusa a tutti i consiglieri di questo mio atteggiamento grazie consigliere bene passiamo al terzo punto all'ordine del giorno ultima variazione al bilancio di previsione 2023-2025 articolo 175 del DLGS 267-2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione lascio la parola all'assessore Barbieri Francesca prego assessore allora ci siamo lasciati l'anno scorso quest'anno con l'approvazione del rendiconto dove avevamo una parte accantonata del nostro avanzo di un milione 323-602-34 una parte vincolata di 1.079-158-93 una parte destinata agli investimenti di 100.321-37 ed una parte disponibile di 829-098-63 nel corso poi dell'anno 2023 abbiamo utilizzato una parte di quest'avanzo libero per quanto riguarda 57.345-96 per andare a coprire quello che è stato il debito fuori bilancio dell'ASP una parte in conto capitale di 464-654-17 e un'altra parte in conto capitale di 4.000 euro adesso con questa variazione vi proponiamo di andare a registrare quelle che sono le entrate per quanto riguarda il contributo della regione e comunque anche del del ministero per 700.000 euro con l'intervento sul palaghiaccio poi abbiamo ricevuto anche un contributo da parte del Galle per 57.000 euro 452-62 per la realizzazione del museo della montagna e poi abbiamo anche avuto un contributo di 2785-09 per il riparto del fondo per le politiche per le famiglie degli affitti dei terreni per 200.000 euro 10.000 euro che sono comunque dei rimborsi che sono stati registrati sul capitolo 3480-01 poi c'è un ulteriore trasferimento dall'Unione della dell'Unione montagna di 4.186 e 40 per delle le multe dei fitti di fabbricati per 2.300 euro l'affitto dell'ostello Ballocchi 880-50 e lo svincolo di una parte del fondo vincolato per 11.933-66 perché dovranno essere restituiti degli oneri comunque ad un cittadino che non ha portato avanti delle opere un rimborso da parte dell'Istat e l'utilizzo del fondo contenzioso per 33.000 euro questo per quanto riguarda quelle che sono le entrate per voler dare poi un ulteriore dettaglio per quanto riguarda quello della compartecipazione dei 300.000 euro da parte del comune per quanto riguarda la realizzazione del palaghiaccio abbiamo attinto 100.000 euro e 321.37 con degli accantonamenti in conto capitale che si erano stati realizzati nel corso del tempo e poi ci sono altri 200.000 226.01 che vengono attinti dalla parte comunque che era libera per quanto riguarda 199.678.63 sono sul palaghiaccio e 547.38 sono invece sul museo della montagna che non hanno trovato copertura con il contributo che era stato richiesto perché era stata avanzata una richiesta di 70.000 non è stata accettata per intero quindi 547 la prendiamo dall'avanzo libero e 12.000 euro invece avevamo ricevuto un contributo nel 2020 per quanto riguarda l'adeguamento delle classi e siccome erano stati soldi già spesi noi ora a questo punto riusciamo a andarli ad utilizzare su questa parte in conto capitale invece per quanto riguarda le spese abbiamo l'utilizzo del fondo del lavoro straordinario per 9.300 euro poi abbiamo registrato anche la corrispondente uscita sul palaghiaccio abbiamo avuto il contributo per il museo della montagna e registriamo quindi anche la corrispondente uscita abbiamo avuto ancora purtroppo un aumento per quanto riguarda il consumo di energia e le indennità di emissione che invece vengono anche vengono ridotte perché sono state fatte delle efficientamenti e delle economie su vari capitoli per riuscire a portare ovviamente a copertura quelle che erano le grosse spese per quanto riguarda l'aumento delle bollette e quelli che erano anche gli acquisti dei cippati che ci permettono poi di far avere il riscaldamento nelle scuole poi abbiamo avuto come spesa ancora diciamo abbastanza sostenuta quello degli incarichi delle spese legali per delle pratiche che erano state fatte ma qui è stato fatto un giroconto perché era comunque disponibile anche su un altro capitolo e poi abbiamo avuto appunto l'aumento del cippato il personale erano stati fatti degli stanziamenti che erano stati comunicati da chi ci gestisce il personale che non sono stati in ogni caso sufficienti quindi attraverso dell'economia a seguito di licenziamenti di persone nei vari uffici sono stati attinte per poi portarli comunque in quelli che erano i capitoli che ne avevano più necessità e quindi a questo punto dopo tutte queste belle variazioni si arriva ad avere quindi quella che è l'approvazione del nostro bilancio dove abbiamo quelle che sono sempre le entrate per competenza dove vediamo che vengono sempre raggiunti quelli che sono gli equilibri di bilancio con quella che è la quadratura delle entrate di competenza con le uscite per l'anno 2023 di 21.118.713.51 e le uscite di competenza 21.085.7 no qui c'è un refuso 21.118.713.51 quindi questo va corretto poi su 2024 12.084.127.46 e parimenti vanno le uscite il 2025 12.061.1 e parimenti quelli che sono le uscite di competenza grazie grazie assessore voglio ringraziare l'assessore Barbieri e coloro che insieme a lei hanno lavorato per cui gli uffici la dottoressa del del barba la dottoressa Mortari la dottoressa Cavazzuti per il lavoro svolto grazie veramente ci sono interventi prego consigliere Bargiacchi ne approfitto per richiedere quello che già aveva chiesto il consigliere Pedrini per il pala per il palaghiaccio quali lavori e quali importo per i lavori quali spese tecniche è vero che non è competenza del consiglio comunale approvare i progetti tendiamoci però insomma visto che affrontiamo una spesa di quell'importo credo che sapere un po' questi questi importi sia utile e per per l'intervento riferito al museo chiederei se è possibile conoscere l'ubicazione e perché non ci ha ammesso 12 mila euro circa il galo provo a dare una risposta che chiaramente per quello che ha richiesto il consigliere Pedrini personalmente mi sono attivato perché le venga data risposta nelle tempistiche giuste e speravo che oggi le avessero mandate questo è quanto per cui sarà il mio compito e mia premura guardarci e far sì che le vengano date tutte le informazioni dovute per cui questo lo evidenzia anche il consigliere Bargiacchi per quanto riguarda la progettazione credo che sia corretto anche se non è compito del consiglio comunale sapere dove viene investito una cifra di questo genere le posso dire che servono perché purtroppo quello che era stato preventivato dalla precedente amministrazione suddivisa in diversi step e diversi progetti messa a terra o meglio attualizzate i costi c'erano veramente delle mancanze che speriamo anzi sono sicuro che riusciremo a concludere quest'opera che veramente poteva rimanere l'ennesima incompiuta per quanto riguarda invece il museo della montagna l'ubbligazione è in una parte sempre della struttura del palazzetto del ghiaccio siamo riusciti ad ottenere questi cinquanta sei mila euro non settanta come abbiamo richiesto perché andandola al controllo certi interventi non sono stati non rientravano non potevano essere finanziati del tipo delle scritte esterne del tipo delle divisorie il legno e questo è quanto e ci siamo attivati per far sì che anche questa parte del palazzetto del ghiaccio potesse prendere una forma diversa rispetto a quella che ci siamo trovati l'ubbligazione il consigliere Bargiacchi sa benissimo quando parlo dell'ex bar del palazzetto del ghiaccio tutto l'ingresso di quella zona del palazzetto del ghiaccio diventerà un museo della montagna è un modo come un altro per cercare di rendere più appetibile quella struttura di far sì che diventi un qualche cosa di attraente per quello che è il turismo della nostra montagna e credo che museo della montagna potevamo dire museo del ghiaccio o museo dello sci no abbiamo detto museo della montagna perché soprattutto sotto il profilo multimediale siccome la nostra diciamo la nostra maggioranza all'interno diversi ingegneri che riescono veramente avere molta fantasia per quello che riguardano anche delle innovazioni tecnologiche per far vedere determinate robe credo che sia una miglioria da fare in una struttura che poteva diventare come ha detto prima l'assessore barbiere l'ennesima incompiuta per cui crediamo e siamo sicuri che come lo è stato per il teatro di Rigonchio che ha generato non solo un indotto e una miglioria su quella specifica struttura ricordo che le aziende del nostro territorio possono attingere quasi un milione di euro da quel bando da quell'investimento da quella magari fantasia anche voglia di fare le cose e di farle realmente per cui credo che il nostro scopo il nostro obiettivo sia proprio quello di portare avanti dei sogni e speriamo di arrivarci in fondo perché veramente forse questo parere personale parere di chi ha portato avanti questa iniziativa era molto peggio rinunciare a 700.000 euro che lo Stato e la regione aveva messo a disposizione del nostro territorio prego certo e quindi il punto ristoro dove rimane lì e le pareti vengono no allora cerco anche qui di semplificare per magari chi non conosce nei dettagli praticamente il punto del museo sarebbe l'ingresso del palazzetto non si entra in un palazzetto del ghiaccio si entra in un museo della montagna che si sviluppa dove c'è l'attuale ingresso cioè nella parte diciamo verso il centro abitato di Cerreto e dove c'era l'ex bar che è completamente in pessime condizioni invece per quanto riguarda il bar o il punto di ristoro questi nuovi fondi faranno sì di avere il bar dove era la sua collocazione iniziale quando era stato costruito il palazzetto cioè nella parte sopra dove con un progetto secondo me molto bello rimarrà una vetrata che sia proprio aperta dove uno da dentro al bar può vedere i ragazzini i figli che pattinano rimanendo al caldo per cui questo è il progetto questo è un sogno per alcuni per la nostra amministrazione e speriamo di arrivarci in fondo non è cosa facile perché purtroppo i costi sono quotidianamente in aumento però noi crediamo che una cifra di questo tipo possa far sì di concludere questa importante opera non solo per il territorio del comune del Ventasso ma per l'Unione Montagna e per la regione che ha creduto e ci ha sostenuto in questi passaggi per cui questo è quanto prego Assessore Barbieri scusa in risposta al consigliere Bargiacchi quando chiede rispetto ai 70.000 euro cosa non è stato ammesso se guarda nella documentazione che l'è stata inviata dalla segreteria all'ultima pagina nel protocollo della notifica della concessione del contributo vengono elencate le motivazioni ci sono altri interventi passere alla votazione prego segretario Peretti Enrico favorevole Costa Daniele favorevole Pacini Franco favorevole Borghesi Ivano favorevole Dolci Cristiano favorevole Bonelli Filippo favorevole Giovinelli Luca favorevole Giovinelli Luca favorevole Taccini Alessandro favorevole Bargiacchi Paolo astenuto Cecchi Luca astenuto Pedrini Emigliano astenuto Votiamo l'immediata eseguibilità Votiamo l'immediata 21 e 33 23 scusa Si chiude il consiglio Si, per cui ritengo chiuso il consiglio comunale Auguro a tutti buona serata